Le opzioni ragazzi, cosa sono le opzioni, come funzionano, che cosa vuol dire un'opzione call, che cosa vuol dire un'opzione put, che cosa vuol dire vendere le call o vendere le put o comprare le call e comprare le put. Insomma, le opzioni, lo sapete bene ormai, sono uno degli strumenti finanziari che in assoluto preferisco. Mi permettono di operare in maniera precisa, di avere un modello di money management preciso, mi permettono di sfruttare, a seconda delle condizioni di mercato, di scegliere strategie che si applicano in maniera profittevole, appunto alla condizione del mercato che si sta verificando. Vi ho fatto vedere il video di ieri, andando a vedere come poter agire con le opzioni per lavorare sulla volatilità, su momenti quindi di alta volatilità, dove il mercato magari è crollato, c'è molta paura e indecisione. Veramente, sono uno strumento eccellente. Per capirlo ci vuole molto studio, dico la verità, non è qualcosa che, insomma, è una passeggiata che si impara in una giornata di formazione. Vi dico solo, nel mio corso, ragazzi, dedico all'argomento opzioni decine e decine e decine di ore di interventi, teoria, tecnica, e poi spiego le strategie. Insomma, c'è da saperne tanto. Però, visto che ogni volta che faccio un video genero tanto interesse, voglio fare una cosa. Oggi voglio, magari con dei prossimi video anche, fatemelo sapere mettendomi dei like, in modo tale che io capisca che questo argomento è un argomento di vostro interesse. Fare dei video in cui vi do un po' le fondamenta, le basi, per capire meglio e poi magari approfondire in maniera autonoma con dei libri, anche se non ce ne sono davvero tanti, con un corso. Insomma, come volete voi, su internet, eccetera. Oggi, quindi, comincio il primo video sulle opzioni rispondendo alla domanda che cosa è un'opzione. E, guardate bene, non parlo di opzioni binarie. Quella, lo sapete, che per quanto mi riguarda è qualcosa che non mi interessa per niente. Parlo invece di opzioni come strumento finanziario sui mercati delle materie prime, sui mercati azionari. A quel tipo di opzioni mi riferisco. Quindi, cosa sono, cos'è una call, cos'è una put, cosa vuol dire vendere e cosa vuol dire comprare opzioni. Lascio ad un esempio pratico, come al solito, un esempio pratico. Mi aiuto con dei disegni o scrivendo, è qualcosa che mi riesce più facile. Ci vediamo prestissimo. Godetevi questa lezione gratuita di introduzione sulle opzioni. Spero la prima di una serie un po' più lunga sta a voi. Scrivetemelo nei commenti se volete proseguire su questo argomento. Lasciatemi un like e, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Ragazzi, grazie mille per l'attenzione. Ci vediamo prestissimo. Buon trading a tutti. Ciao. Bene, allora, ragazzi, che cos'è un'opzione? E ovviamente, ripeto, non sto parlando di opzioni binarie. La spiego spesso l'opzione, diciamo, quando la introduco per la prima volta come concetto, di pensare all'opzione come un progetto che ha una scadenza in quanto tale, in quanto progetto. Tutti i progetti, immaginate un progetto di lavoro, ha una scadenza e ha un determinato prezzo, perché un progetto ha un costo e a un certo punto finirà. Bene, l'opzione è il contratto di questo progetto. È in pratica un contratto in cui si stabilisce il prezzo al quale si vuole comprare o vendere alla scadenza di una determinata data. Ecco perché si chiama opzione, perché stai stipulando un'opzione, stai opzionando un prezzo, un determinato prezzo, ad una determinata scadenza, data di scadenza. Un esempio pratico che porto è anche questo. Immaginate di, a inizio stagione, stagione calcistica, stipulate un contratto con una società sportiva per un giocatore di calcio, dicendo a settembre che volete opzionare quel giocatore di calcio a questo valore, quindi a un milione di euro, alla fine della stagione. Quindi a giugno, luglio, non seguo molto il calcio, quindi non so dirvi quando finisce la stagione calcistica. Però state stipulando un contratto con l'azienda calcistica, in cui opzionate quel giocatore di calcio ad un determinato prezzo, ad una determinata data stabilita. Ora, che può succedere durante l'anno? Può succedere che quel giocatore di calcio fa una stagione fenomenale, segna 2 milioni di gol e il prezzo di quel giocatore cresce durante l'anno. Ma voi a settembre lo avevate opzionato per un determinato valore. Immaginate, un milione di euro era la vostra opzione del giocatore con una scadenza a giugno. Quindi lui fa una stagione fenomenale e in realtà a giugno quel giocatore vale un milione e mezzo di euro. Però voi avevate opzionato questo prezzo e quindi la società è costretta a darvelo ad un milione al prezzo che avevate stipulato. In quel caso, che cosa avete guadagnato voi? Avete guadagnato mezzo milione, che è il valore attuale a mercato di quel giocatore. Viceversa, se quel giocatore fa una stagione terribile, anzi peggio ancora, magari si infortuna a gennaio, si deve operare ai legamenti, sta fermo per mesi, secondo voi a giugno quel giocatore quanto vale? Vale meno di un milione, ma voi siete obbligati, avete l'obbligo di pagare quel giocatore un milione. Ragazzi, queste sono le opzioni. Ve l'ho spiegato su un contesto diverso dai contesti di mercati finanziari, ma questa è un'opzione. Bene, quindi fondamentalmente le opzioni possono essere di due tipi, sono opzioni call e opzioni put. Entrambe queste opzioni possono essere acquistate o vendute. Ok? Quindi potete comprare o vendere una call, potete comprare o vendere una put. E poi vi spiegherò che cosa è una call, che cosa è una put, che cosa succede quando le comprate o quando le vendete. Ok? Quindi, per ora, altre informazioni di base. L'opzione risponde fondamentalmente ad una domanda. Vuoi avere il diritto, il diritto di comprare o vendere, quindi di fare buy o sell. di un asset. Quindi, vuoi il diritto a comprare o vendere un asset, il giocatore di calcio di prima, o potrebbe essere nel mercato azionario, potrebbe essere l'azione della Apple, di Amazon. Vuoi avere il diritto di comprare o vendere, o vuoi avere l'obbligo, l'obbligo ad acquistare o a vendere. Ok? Queste due domande sono importanti, perché la scelta che fate vi dice il tipo di opzione che dovete andare ad impostare. Se dovete andare ad impostare una call, o dovete andare ad impostare una put, se dovete vendere o comprare una put o una call. Ok? Quindi, cominciamo, piano piano cerco di avvicinarvi ai concetti. Queste scelte, sia il diritto che l'obbligo, hanno comunque sempre una scadenza. Quindi, a un certo punto, il diritto o l'obbligo per il quale vi impegnate, avrà una scadenza ad una determinata data. Ricordatevi sempre questo, ogni opzione, in quanto contratto, deve avere una scadenza. Può scadere, per esempio ci sono opzioni che scadono settimanalmente, sui mercati azionari. Quindi ogni settimana, c'è la scadenza di quel contratto su un determinato asset sottostante, si dice in gergo tecnico. Il sottostante è l'azione, il mercato azionario di riferimento. Apple. Se lavorate sul mercato di Apple, il sottostante dell'opzione è appunto Apple. Ci sono scadenze settimanali, ci sono scadenze mensili, ma potete anche, come l'esempio che vi ho fatto all'inizio, comprare o vendere una opzione con scadenza a 4 mesi, 6 mesi, 1 anno, 2 anni, questo a seconda della strategia che volete applicare. Diciamo che le opzioni nascono come strumento di edging, ovvero strumento di protezione sui mercati azionari. Questo almeno è come le usano i grandi investitori, gli investitori istituzionali, per proteggersi. Sono una protezione, infatti un altro esempio per spiegare le opzioni è quello dell'assicurazione e dell'assicurato. Ok? Ovviamente, secondo voi, a voi conviene stare dalla parte, essere l'assicurazione o essere l'assicurato? Beh, le assicurazioni guadagnano molto di più dell'assicurato, cioè della persona che stipula i contratti con l'assicurazione, no? Ok. Allora, le opzioni sono come si possono aprire o chiudere opzioni. Le opzioni sono tradate, quindi sono, diciamo così, effettuati, questi contratti sono aperti o chiusi su degli exchange, o anche su dei broker. Non tutti i broker, però, attenzione, vi permettono di andare a stipolare contratti, quindi dovete scegliere un broker che vi permette di operare con le opzioni. Un'altra cosa, sul mercato azionario, un contratto di un'opzione, buy or put, call or put che sia, equivale ad avere, a muovere, e questo è il concetto di leva nelle opzioni, a muovere 100 shares di quella azione. Quindi, se voi aprite, immaginate che prendete una call, ok? Quindi fate il buy di una call su Apple, e, dico per dire, comprate un contratto, voi in realtà state muovendo 100 azioni di Apple. Qual è il vantaggio di fare questo? È la leva, è che vi richiede un investimento di capitale minore, perché con un contratto muovete 100 azioni, invece di poter comprare 100 azioni. Ok? Questo è un altro grande vantaggio, ed è importante anche perché il premio di un'opzione deve essere moltiplicato per 100, per il numero di contratti, ovviamente, perché se voi acquistate due contratti, state muovendo 200 shares di quello stock, e quindi il premio va moltiplicato per questo valore, ecco perché il concetto di leva. E questa è un'altra informazione sicuramente utile. Esempio, cominciamo a portare degli esempi su, che vuol dire acquistare una call o acquistare una put. Per esempio, ipotizziamo, portiamo l'esempio del buy call. Quindi, buy call. Fatemelo scrivere meglio, ho scritto male, scusatemi. Esempio, buy call. Quindi fate l'acquisto di una call. Call, ragazzi, C-A-L, quindi proprio chiamata vuol dire. Se state acquistando una call, state stipulando un contratto nel quale avrete il diritto, diritto, quindi con il buy di una call, avete il diritto di comprare l'azione ad un certo punto nel futuro, appunto alla data di scadenza, ad un determinato prezzo. Il buy call, ragazzi, è esattamente l'esempio che vi ho portato prima del giocatore di calcio. Cioè, immaginate mercato di Amazon, ok? O Apple. Continuiamo con Apple. Il mercato di Apple. Questo è il simbolo di Apple sullo stock market. Questo è il grafico di Apple. Oggi Apple quota 180 dollari. In questo momento. E voi stipulate un contratto, fate un buy call. Fate una buy call. aprite un'opzione di acquisto di una call. E vi impegnate, o meglio, avete il diritto di comprare alla scadenza a quel determinato prezzo l'azione di Apple. Quindi vuol dire che se Apple, il valore di Apple ha la scadenza, immaginate che la scadenza è qui, qui avete la vostra scadenza, varrà 200 dollari. voi avrete guadagnato, perché il contratto l'avete stipulato ad un prezzo inferiore. Quindi infatti si dice che se si ha una visione rialzista del sottostante, allora si acquistano call. Viceversa, portiamo un altro esempio, se fate il buy di una put, quello che state facendo è il diritto, state acquistando il diritto di vendere, non questa volta di comprare, ma il diritto di vendere il sottostante ad un determinato valore ad un certo punto nel futuro, a seconda della scadenza che avete messo. Quindi, di nuovo nel caso di Apple, ovviamente se fate un buy put, vuol dire che la vostra visione è ribassista. Vuol dire che secondo voi, a quella determinata scadenza, il valore di Apple sarà inferiore al prezzo a cui la state, in questo momento, la state contrattualizzando. e quindi questo era il buy di una put. Portiamo gli altri due esempi, il sell, quindi vendiamo una call, che stiamo facendo secondo voi questa volta, vi state impegnando, avete l'obbligo, non più il diritto, ma avete l'obbligo, siete obbligati alla scadenza, a vendere lo stock, l'azione, ad un certo punto nel futuro, al determinato prezzo a cui avete stipolato il contratto. Se fate invece il sell di una put, di nuovo, l'obbligo, ma questa volta che cosa? Avete l'obbligo di comprare ad un certo punto nel tempo a quel determinato valore di prezzo. Quindi ragazzi, con questa matrice a quattro entrate, call e put, in acquisto e in vendita, si creano strategie anche complesse con le opzioni a seconda dello scenario di mercato che si sta avendo. Esempio, allora, di nuovo, se lo scenario di mercato che vi aspettate su un sottostante, materia prima, ozione, mercato azionario che sia, è rialzista, che cosa farete se la vostra visione è rialzista? acquisterete una call, ok? Però potreste proteggervi con una strategia che si chiama vertical spread, per esempio. Oppure, se un mercato è laterale e voi pensate che continuerà a lateralizzare per ancora un po' di tempo potreste usare un altro tipo di strategia con le opzioni che è il cosiddetto strangle che io uso molto nelle mie strategie con le opzioni. Lo strangle che cosa fa? Praticamente voi non fate altro che vendere una call ad un valore di prezzo superiore e vendere una put in modo tale da guadagnare se il prezzo rimane in questi due valori. Quindi voi guadagnate sia se il prezzo va un po' in alto o in basso l'importante è che non superi questi due valori e questo è un altro esempio di strategia con le opzioni e ce ne sono tante ragazze ragazzi ci sono i diagonal ci sono appunto i vertical spread gli strangle gli straddle i butterfly veramente tante e direi di fermarmi qui ho già messo tanta carne al fuoco ragazzi fatemi sapere se questo argomento vi interessa fatemi sapere se volete più esempi se volete che continui di cose da dire ce ne sono tantissime e ovviamente non sarà mai esaustivo perché come vi dicevo prima durante il corso sul capitolo il modulo didattico delle opzioni parlo decine e decine di ore di opzioni quindi con questi video voglio solo farvi affascinare a questo mondo e sperare che poi vogliate continuare dal mio punto di vista e questa volta è un consiglio finanziario le opzioni sono il mio strumento preferito per operare sui mercati finanziari classici ragazzi grazie a tutti per l'attenzione lasciatemi un commento mettetemi un like fatemi capire che vi piace questo argomento iscrivetevi al canale per essere aggiornati ogni volta pubblico un nuovo contenuto basta che cliccate su iscriviti e sull'icona campanellina di youtube ci vediamo prestissimo buon trading a tutti ciao